Onestamente credo che fosse un bel gruppo che stesse lavorando bene e eravamo fiduciosi di poter guadagnare la salvezza sul campo. Tra i vari verdetti espressi dal Consiglio federale dell'8 giugno vi è stato anche lo stop al campionato femminile di Serie A, una decisione abbastanza sorprendente poiché inizialmente sembrava che almeno la massima divisione potesse concludere la stagione. La Pink Bari, unica realtà del sud a giocare nel massimo torneo nazionale, era però pronta a giocarsi le sue carte in campo dove Novellino e compagne erano terzultime con 11 punti dopo 16 turni di campionato. Parola di Alessandra Signorile, numero uno della Pink Bari, lo scudetto 2019-20 non è stato assegnato mentre per definire le classifiche con relative promozioni e retrocessioni, oltre che l'accesso alla UEFA Women's Champions League, si è proceduto con l'applicazione dell'algoritmo con i criteri correttivi validi per i campionati professionistici maschili. Salva la Pink Bari, allenata da Cristina Amitola, dalla quale si potrebbe ripartire nell'annata 2020-21. Per la Signorile, ora è tempo di guardare avanti, dritti al futuro. Credo che sia stata fondamentalmente una buona annata, se avessimo avuto forse il tempo di finire non so come sarebbe finito, comunque attualmente eravamo salvi in classifica e come sempre noi siamo una piccola società, una piccola realtà del sud, l'unica del sud, per cui abbiamo una disponibilità economica finanziaria molto diversa rispetto a tanti nostri colleghi e cerchiamo di fare del nostro meglio. Al tavolo della Serie A femminile 2020-21 siederà allora ancora la Pink Bari, che alla pari degli altri club ora attende segnali dalla federazione chiamata a fissare la ripresa del campionato, che verrà anche anticipando le date rispetto a quanto inizialmente previsto come auspicato dal presidente Gravina per tutelare la nazionale femminile attesa dalle ultime decisive gare per le qualificazioni agli europei del 2022.